La polizia catalana ha smantellato un intero giro di produzione e vendita di falsi di opere di Banksy, il celebre quant'anonimo street artist britannico. Quattro persone sono indagate per frode e reati contro il diritto d'autore. I sospettati lavoravano da anni su questo progetto, vendendo i falsi in Spagna, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera. Dall'inizio delle indagini, nel luglio scorso, sono state scoperte almeno 25 vendite di falsi, per un totale di 10.000 euro. Gli inquidenti hanno dichiarato che l'indagine è ancora aperta e non si escludono altre vittime e nuovi arresti.